Un cordiale saluto agli ascoltatori di Cittago Radio. Nell'edizione di martedì 3 dicembre parliamo del Museo Acome Ambiente, di Fondazione Cultura, del contratto di fiume per la storia di Lanzo e di Armenia. Museo Acome Ambiente, discussione in sala rossa a proposito dello scontro tra direttore e presidente del Museo Acome Ambiente. Il dibattito è stato introdotto da una comunicazione a porte chiuse dell'assessore Enzo Lavolta, che è anche il presidente del Museo, il quale ha comunicato il venir meno del rapporto di fiducia col direttore, peraltro dimessosi. La polemica ai vertici del Museo è stata resa pubblica con uno scambio incrociato di accuse di pressioni per alcune assunzioni e di gestione familistica opaca della struttura. Nei numerosi interventi in Consiglio, gli esponenti dell'opposizione hanno reclamato la visione degli atti e un approfondimento in commissione di controllo e gestione di quello che hanno definito un ennesimo capitolo del sistema Torino. La maggioranza ferma restando l'esigenza di chiarire alcuni punti della vicenda, ha sostanzialmente riconosciuto il corretto operato dell'assessore presidente, il quale ha da parte sua respinto ogni accusa di interferenza nelle assunzioni di personale. Fondazione Cultura. La Sala Rossa ha approvato una delibera proposta dai consiglieri Michele Curto e Margo Grimaldi di SEL e Giuseppe Sbriglio Italia dei Valori, che prevede modifiche statutarie per la figura del segretario generale della Fondazione Cultura. Il provvedimento aveva già visto la discussione nel mese di ottobre, discussione che si era interrotta in fase di votazione di alcuni emendamenti. La modifica riguarda l'articolo 15 dello statuto della Fondazione, secondo il quale il segretario in futuro dovrà essere individuato con le modalità in uso nella pubblica amministrazione, tramite procedura pubblica dunque e non più nominato per via diretta. La delibera era stata illustrata dai primi firmatari che avevano sottolineato come questo provvedimento sia finalizzato a ribadire principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso. Stura di Lanzo. La Stura di Lanzo attraversa molti comuni piemontesi prima di raggiungere la periferia di Torino e mettersi nel Po. E per coordinare tutti gli enti interessati al buon mantenimento del fiume, la provincia di Torino ha ideato il contratto di fiume per la Stura, iniziativa che coinvolge anche la città di Torino. Il Consiglio Comunale ha approvato il protocollo d'intesa che sarà sottoscritto dal sindaco di Torino e dai sindaci degli altri comuni che si affacciano sul corso del fiume dove è in corso lo stesso ITER. Gli obiettivi primari del contratto sono il miglioramento della qualità ambientale, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio del bacino. Armenia e Torino. Solidarietà e lotta alla violenza. Armenia. Sargis Gazarian, neoambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia, è stato ricevuto dal sindaco di Torino Piero Fassino. È l'ottantunesimo ambasciatore che Fassino ha incontrato negli ultimi due anni, a testimonianza della rinnovata vocazione internazionale della città. Gazarian era a Palazzo Civico, invitato dal vicepresidente del Consiglio Comunale Silvio Magliano, per partecipare alla presentazione del volume della scrittrice di origine armena Antonia Arslan, il libro di Mush, evento promosso dall'Associazione di Volontariato Asso con il supporto del WSSP. Il 6 febbraio 2012 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato un ordine del giorno per condannare il genocidio armeno e promuovere la riconciliazione tra Turchia e Armenia. L'edizione di oggi è stata redatta da Federico D'Agostino, Massimiliano Quirico, Claudio Raffaelli Roberto Tartara, direttore Remo Guerra.